Aggiornamento di Sheldani del per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 6 Dicembre 2011. Selamat Balik. Torniamo. Le linee che tengono insieme la vostra realtà si stanno rapidamente dissolvendo, trasmutandosi nelle griglie di una nuova realtà. Questa nuova realtà sta ora evidenziando le varie problematiche che stanno mettendo sotto pressione ogni parte del vostro mondo, e questo è normale visto che i miasmi del passato stanno per essere depurati. Nei secoli scorsi molti dei vostri regni sono stati spazzati via dalla potenza fragorosa degli Anunnaki, che hanno congelato, allagato e bruciato le vostre società, nel tentativo di cancellare i ricordi delle vostre origini pienamente consapevoli. In ogni occasione, gli Anunnaki selezionarono un gruppo di sopravvissuti, per poter garantire la realtà successiva creando un trauma nella memoria contenuta nel DNA, e conservando quanto necessario per ripetere all'infinito questi modelli di distruzione e di genocidio nel corso della storia. Questo tentativo di seppellire i ricordi del vostro originario e più elevato stato di consapevolezza si è dimostrato un successo parziale, non riuscendo ad indurre in voi quella adulazione e la completa acquiescenza voluta dai controllori oscuri. Il vostro percorso interiore, inestirpabile, è stato mantenuto intatto dallo Spirito, per il giorno in cui tutti voi riacquisirete il vostro precedente stato di gloria. Questa avventura nelle prove e nelle tribolazioni della consapevolezza limitata si è quasi conclusa, e state ora per attraversare gli ultimi scenari di paura e di illusione confezionati per voi dai servitori degli Anunnaki. Siate coraggiosi e saggi, e sappiate che siete perfettamente in grado di vedere oltre questi ultimi inganni. Nuove istituzioni si stanno ordinatamente insediando mentre proseguono le inutili azioni di facciata degli oscuri. Gruppi segreti con intenti positivi stanno lavorando con i maestri ascesi per portare il vostro nuovo mondo verso la luce, mentre gli oscuri, che vi opprimono stanno per essere rimossi. Rallegratevi, e comprendete il significato di tutto questo. Sarete praticamente liberati da coloro che con la loro arroganza e i loro imbrogli vi hanno imprigionato in un mondo che, inizialmente, era solo un esercizio per lo Spirito. Avete avuto la meglio, e ora siete pronti per mostrare all'universo di cosa siete capaci. Le vostre famiglie spirituali e quelle dello spazio vi inviano amore e benedizioni, il tempo per la nostra gioia collettiva è a portata di mano. Gaia è consapevole di ciò che vi attende. Si rende conto, che alcuni eventi molto significativi si avvicinano, e che questi trasformeranno la vostra società globale. Sappiamo che è naturale per molti di voi cercare conforto nelle vostre tradizioni religiose, e desideriamo farvi conoscere molte cose, che vi permetteranno di vedere che queste tradizioni sono un buon inizio per una miglior comprensione di ciò che sta accadendo. Presto ci sarà grande abbondanza, e la vostra psiche verrà liberata dai vecchi metodi della sua consapevolezza limitata, portandovi ad avere una visione più ampia di come funziona il vostro mondo. Questo cambio di prospettive è qualcosa che siamo pienamente in grado di conciliare. I maestri ascesi appresero, durante il loro lungo viaggio verso l'immortalità, i modi per presentare adeguatamente a voi una visione nuova e più ampia, e questo sarà il loro contributo fondamentale alla nostra missione di primo contatto. È giunto per voi il momento di passare da una visione limitata, ad una visione pienamente consapevole della creazione e della fisicità, ed è coerente apprendere da coloro che hanno acquisito la saggezza della scuola Terra, proprio come state facendo voi. Il primo contatto porta con sé un importante cambio di consapevolezza, che fornirà una enorme accelerazione al vostro divenire umani galattici. Questo richiede una adeguata pianificazione, per compiere questa impresa incredibile in un modo rapido e armonioso. Ci siamo consultati con i nostri cugini di Agartha, per scoprire il modo in cui gli atlantidei oscuri iniziarono a ridurvi ad una consapevolezza limitata al fine di ottenere dei soggetti facilmente condizionabili dagli oscuri. Il loro procedimento tesò a disabilitare la maggior parte del vostro DNA, vi ha spogliato di ogni potenzialità, tranne quelle capacità necessarie alla vostra sopravvivenza, isolandovi dalla vostra gioiosa connessione con il Divino. Ora abbiamo bisogno di ripristinare questo danno, riportando il vostro DNA alle condizioni iniziali e ridonandovi l'accesso alle vostre sacre abilità. Insieme agli Agartiani abbiamo perfezionato una camera di luce adeguata a ciascuno di voi, che con precisione riposizionerà nel modo adeguato gli elementi, che faranno riaprire il canale della vostra piena consapevolezza. Fatto questo, tornerete alla vostra iniziale completezza e nuovamente pienamente consapevoli, per potervi unire ai vostri compagni galattici, ed aiutare il Cielo a manifestare il piano del Creatore per la fisicità. Una immensa gioia attende ciascuno di voi. Benedizioni a tutti voi. Torniamo. Siamo i vostri maestri ascesi. Le griglie di Gaia della realtà attuale continuano a sgrettolarsi, e mentre cedono, le nuove griglie per una realtà pienamente consapevole si preparano alla loro inevitabile manifestazione. Questo significa che è previsto un calendario ben preciso per far giungere tutti voi ad una piena consapevolezza. La cabala rimane come sempre inflessibile, e quindi il tempo per le misure drastiche si avvicina rapidamente. Molti dei nostri associati sono impegnati in riunioni, per la definizione dei piani per il raggiungimento degli obiettivi. La cabala, nel frattempo, pubblicizza ipotetiche soluzioni per una via d'uscita dalle loro crisi finanziarie, mentre in realtà sta temendo l'avvicinarsi del momento in cui verrà costretta a cedere il potere alla luce. A tal fine i nostri collaboratori di Agar tarammentano quotidianamente a questi malfattori l'opportunità di dimettersi e di affrontare quanto previsto per loro. In preparazione di questo evento, il sistema giuridico del mondo si sta attrezzando per uno scenario di dimensioni importanti. Stiamo vivendo un momento veramente sacro. I tempi sono ora alle fasi finali. A questo proposito, le nostre famiglie galattiche e spirituali stanno preparando il percorso per la vostra transizione verso la quinta dimensione, visto che riunire una Terra divisa è il sogno comune del cielo e di Gaia. Per quasi 13 millenni, Gaia ha dovuto incarnare la separazione tra un mondo 3D di superficie e un mondo 5D interiore, e desidera tornare al suo essere monopolare e unificato. Questo naturalmente richiede che anche voi, rapidamente vi trasformiate in esseri pienamente consapevoli. Questi esseri possiedono l'innata capacità di partecipare al meraviglioso mondo 5D del vostro prossimo futuro, che è poi quello che occupiamo. Il nostro scopo divino consiste nel presentare a tutti voi la vostra immortalità e il regno bellissimo della piena consapevolezza. Ogni giorno inviamo le nostre benedizioni di speranza e di gioia, visto che si avvicina il momento per manifestare questi desideri sacri. Sono in corso molte attività per portare a compimento quello di cui vi stiamo parlando. Nonostante il loro atteggiamento apparentemente calmo, gli oscuri sono in realtà nel panico totale prefigurando il destino inesorabile, chi li attende. I cieli si sono aperti e una forza immensa, molto più grande di qualsiasi altra cosa già nota a questi oscuri, sta tenendo gli occhi puntati su di loro. Non passerà molto tempo per assistere alla fine della loro grandiosa visione di un impero invincibile, mentre viene archiviata con gioia grazie alla più grande opera di pulizia della storia. Le nostre famiglie galattiche e spirituale sono qui non solo per presentarci una nuova meravigliosa consapevolezza, ma anche per designare la vostra appartenenza alla grande unione della luce. Questa operazione è nelle sue fasi conclusive. Immaginiamo la gioia assoluta, che ci avvolgerà quando daremo il benvenuto alle nostre famiglie, ed insieme festeggeremo la vostra nuova condizione di esseri pienamente consapevoli. Oggi abbiamo continuato il nostro approfondimento su Gaia e sulla sua gente. Siamo pronti a portare a compimento quello che tutti voi, a vostro modo, avete così magnificamente iniziato. Il primo contatto è un evento inevitabile, che si adempie in risposta alla chiamata del cielo. Questa chiamata sta avendo risposta con l'inizio di una nuova realtà. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che le illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gaium. Selamat Yah, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003 2003